Ciao ragazzi, ben ritrovati, questo nuovo video oggi doppia vigilia perché è vero che domani la Juventus dei grandi, anzi la Juventus dei forti scende in campo all'Allianz Stadium contro l'Empoli ma è anche vero che domani la Juventus degli scarsi e degli youtuber scende in campo a Milano contro il Milan quindi se siete di Milano e domani pomeriggio siete liberi fateci sapere, venite a fare un salto da noi che giochiamo proprio a Milano contro il Milan sarà una partita tosta, difficile, quella davvero al di là di ogni parola che può aver speso Allegri all'interno della conferenza stampa di presentazione perché abbiamo visto i convocati, i nostri, buona squadra la nostra ma anche il Milan sicuramente ci darà del filo da torcere sarà una partita molto equilibrata e speriamo di portare a casa la qualificazione alla fase finale perché dai, c'è la possibilità di fare anche questa cosa qua poi rientrerò a casa e da qui torneremo a fare tutti i nostri contenuti e ci vedremo Juventus Semple insieme live su Twitch e poi faremo tutti i video del caso, anche il post partita che però non uscirà sul mio canale YouTube bensì sul numero 10 quindi scaricatevi il numero 10 perché domani sera il post partita, quello classico, esce appunto sul numero 10 qui sul canale invece facciamo un altro contenuto di un'altra tipologia e c'è anche un articolo che ho scritto ed è uscito proprio ieri sul numero 10 che riguarda Pogba e Chiesa che è un argomento che ha comunque trattato anche Allegri oggi nella conferenza stampa e quindi cerchiamo di analizzare quelle che sono state le parole di Massimiliano Allegri prima di Juventus Semple tra l'altro io ve lo dico subito, mai come quest'anno credo che le conferenze stampa di Massimiliano Allegri siano importanti per un motivo quest'anno abbiamo veramente visto quanto la comunicazione sia importante per capire anche il livello di concentrazione del gruppo a livello mentale io penso che non sia un caso che l'avivento sperda a Monza dopo le parole di Allegri al Corriere a Mario Sconcerti non credo che sia un caso che l'avivento sperda a Daifa dopo la conferenza stampa brutta di Massimiliano Allegri nella quale si puntava abbastanza il dito contro i giocatori e ve le avevo predette tra virgolette quelle due conferenze come termometro non impeccabile di comunicazione da parte del mister che secondo me nel primo ciclo era stato maestro nel cercare di alleggerire tante volte la pressione ma il livello comunicativo di Allegri negli anni è cambiato tanto e la conferenza di oggi non mi è piaciuta, ve lo dico subito, non siamo ai livelli di quella col Maccabi, non siamo ai livelli di quella col Monza non ci sono momenti in cui ho pensato oddio che disastro però in tanti momenti ho pensato ma davvero questo è il pensiero del mister? cioè davvero se dobbiamo andare a capire i problemi di questa Juventus ci focalizziamo su quella cosa e quella cosa soltanto l'aveva già detta in passato anche la scorsa settimana col Toro e non ci avevo dato troppo peso perché una frase buttata lì ho semplicemente detto non sono d'accordo ma oggi quella frase torna fuori per ben due volte all'interno di questa conferenza stampa è un allegre anche abbastanza sereno carico come non l'avevamo visto invece nelle precedenti conferenze stampa io spero che non sia un chiaro indicatore di abbiamo vinto la partita precedente e quindi siano sereni perché abbiamo vinto e quindi i problemi sono risolti perché l'unica cosa che è andata male in questa stagione è quella lì e ci arriveremo perché mi è sembrata una conferenza un po' sbarazzina devo dirvi la verità proprio come modo di porsi le risposte che dava questo senso di forse superiorità anche che non si era avvertito nelle precedenti conferenze dove si erano abbassate un po' più le orecchie perché si era in una posizione scomoda spoiler non siamo usciti da quella posizione scomoda siamo ancora all'ottavo posto in Serie A siamo ancora a un passo dell'eliminazione in Champions e forse addirittura un passo da non qualificarsi nemmeno in Europa League passando da terzo del girone quindi il mio augurio è il seguente che non si sia iniziato a ragionare che il momento buio duro è alle spalle perché ehi abbiamo vinto il derby questa cosa non esiste questa cosa non deve esistere non deve nemmeno passare per l'anticamera del cervello perché un attimo riesci a volare sulle stesse sulle stesse bucce di banana e ci si fa male bella vittoria nel derby meritata concordo meritata bella non concordo meritata sì contro una buona squadra come il Torino può diventare importante dando seguito domani contro l'Empoli oggi facciamo allenamento dovrò valutare alcune situazioni perché tante hanno giocato tante partite la squadra sta meglio mentalmente perché la vittoria ci ha dato serenità e morale il nostro umore dipende dai risultati più vinciamo e più stiamo bene domani non sarà sicuramente semplice allora che i risultati aiutino il morale credo che sia una delle cose più scontate in assoluto nello sport ed è giusto ed è giustissimo che sia così però attenzione al discorso che facevo prima e cioè non è che se vinciamo una partita allora abbiamo risolto no abbiamo semplicemente vinto una partita ed è già da dimenticare con la vittoria è da analizzare ma è da dimenticare non può essere sufficiente per la Juventus vincere a spot di tanto in tanto è quello che dicevo prima attenzione che la linea è sottile molto sottile ma cito Allegri ci passa una cosa grandissima tra le cose sottili che sembra sottile ma non è sottile Dujan ha giocato una delle migliori partite tecnicamente gli fanno una domanda su Vlaovic e lui giustamente va su Ken perché lui è fatto così quando lui vuol dire una cosa dice e voleva parlare di Ken e quindi ha parlato di Ken dicendo lo stesso Ken ha fatto bene sono contento sta crescendo e sta meglio fisicamente si rende disponibile per la squadra per ottenere risultati sarebbe essere tutti a disposizione la vittoria di Torino diventa importante vincendo contro l'Empoli non sarà facile lo scorso anno ci hanno battuto in casa allora il fatto che la continuità con l'Empoli domani non sarà facile domani non sarà semplice sarà una partita difficile le prime tre domande queste cose sono state ribadite 150 volte lo abbiamo capito anche perché credo che in questo momento nessuna partita sia facile per la Juventus ci sono partite più facili e meno facili tipo quella col Benfica di martedì non sarà per niente facile quella di domani con l'Empoli sarà un po' più facile rispetto a quella col Benfica ma per questa Juve di facile non c'è niente ed è per quello che vi dico attenzione a pensare di essere guariti lo scorso anno ci hanno battuto in casa? sì lo so, lo so bene, ero lì, me la ricordo grazie mister per aver riaperto questa ferita ho i ricordi del Vietnam che mi volano avanti agli occhi niente ipotesi perché gli chiedono un tridente Vlaovic, Chiesa e Milic niente ipotesi, vediamo le cose reali mi va a ridere perché quella famosa conferenza, quella famosa intervista chiacchierata, sconcerti, si parla della Juve virtuale e quindi in alcuni momenti si può fare, in alcuni momenti non si può fare è una grande festa, diciamo così, ormai vale tutto ad oggi Chiesa e Pogba non li abbiamo, non sono a disposizione Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra Pogba si è allenato molto parzialmente con la squadra evitate di scrivere perché avete fantasia giocatori che non si sono allenati, scrivete che sono a disposizione la fantasia ha il potere, domani non ci sono a me devo dire la verità non è piaciuta questa risposta di Allegri perché gli è stata fatta una domanda in via ipotetica per il futuro quando rientrerà Chiesa lui ha capito male perché poi infatti dice ma per domani? e dicono no no no, per il futuro, allora dice no no niente niente ipotesi, pensate alle cose reali e poi è andato a dare una risposta come dicevo prima, lui risponde a quello che vuole però credo anche che sia necessario rispetto per le persone perché o ti riferivi effettivamente al giornalista che ti ha fatto la domanda o hai attaccato una categoria a caso magari per una roba che hai letto e non ti è piaciuta però non è che tutti i giornalisti scrivono che Chiesa e Pogba domani sarà a disposizione anch'io l'ho letta sta puttanata e dico che è una puttanata e anche nel video dell'altro giorno sul canale Davon con Lello e Chino dicevo ragazzi attenzione, c'è prudenza perché forse non abbiamo capito il momento il grado di recupero di questi giocatori però credo anche che ci sia un modo differente per rispondere a dei giornalisti che sono lì a fare il loro mestiere ascoltando quello che ha da dire l'allenatore della Juventus è quello che vi dicevo un Allegri molto carico oggi rispetto a quello che era stato l'Allegri un po' più testa bassa, testa china delle altre partite nelle quali magari si sentiva più sulla graticola e non vorrei mai davvero non vorrei mai che Allegri si sentisse salvo in questo momento perché? Perché abbiamo vinto una partita col toro cioè questa cosa non esiste attenzione, questa cosa non esiste devo valutare McKennie viene da 11 partite di seguito ma tanto corre quindi va bene sì vabbè anch'io corro mister però insomma sono scarso quindi McKennie corre ma non mi sembra minimamente in forma in questo momento quindi io credo che vada non valutate anche queste cose qua però sono i miei due umilissimi centesimi da tifosi nulla più Quadrado viene da più partite devo valutare se giocare in determinati modi poi inizia a fare un discorso devo spostare questo di là quell'altro di su di giù non lasciamo stare questo discorso lo riassumiamo se dobbiamo giocare in determinati modi abbiamo domani poi abbiamo martedì domani è difficile sono veloci i tecnici ti impegnano anche fisicamente è praticamente il Barcellona del triplete l'Empoli praticamente il Barcellona del triplete per abbattere l'Empoli bisognerà mettersi pari a loro anzi è un discorso che vale da qui a fine anno se ci mettiamo a pari a loro poi vengono fuori i valori individuali se pensiamo ad andare in campo e battere l'Empoli come fisicità ribaltiamo il muso questo è un discorso che a me non faccio fatica a farmelo andare bene questo discorso perché non posso accettare che la Juve l'unico modo che abbia di battere l'Empoli è quello di mettersi pari all'Empoli e far venire fuori i valori individuali dei giocatori superiori della Juventus perché sennò che cosa servano gli allenatori non servano a niente e sentire un allenatore che dice una roba del genere cioè qua non è che metti la colpa sui giocatori qua metti i pregi sui giocatori all'esatto opposto magari rispetto al discorso di quando si diceva gli errori li fanno i giocatori e allora quale partita le vincono i giocatori cioè si passa da un estremo all'altro che però questo è il vero Allegri no? nel senso lui anche quando vinceva i complimenti vanno fatti ai ragazzi perché sono loro che fanno e allora Ronaldo non vale 150 che secondo me è giusto come ragionamento tutte quelle robe insomma quelle robe lì sono giuste però non è l'unico modo di battere l'Empoli e questo è il messaggio che deve passare cioè non è che la Juve se va in campo e pensa di battere l'Empoli in casa perde no cioè per quale assurdo motivo cioè questa è una follia ecco poi io sono d'accordo sul discorso che i giocatori hanno un grande peso specifico all'interno di una partita di calcio tanto quanto gli allenatori però a volte sembra che si vogliano prendere sempre solo gli estremi no cioè cerchiamo di di ragionare in maniera un po' più aperta a 360 gradi perché sennò veramente parliamo di estremismi e gli estremismi sono sempre pericolosi ricordatevelo poi dice prima ho fatto una battuta e si riferisce al discorso della fantasia al potere che ribadisco una battuta però per quanto riguarda di cattivo gusto anch'io vorrei tutta la rosa a disposizione ma con quelli che abbiamo faremo una grande partita domani e ci prepareremo per il Benfica Chiesa ha fatto passi in avanti sabato giocherà un amichevole in campo infatti vi dicevo l'altro giorno io avevo letto che si giocava di sabato con la primavera poi oggi parla di amichevole allegri quindi non ho ben capito se intenderà Juventus-Cagliari o se il giorno dopo l'Empoli ci sarà un amichevole questo lo vedremo dice poi l'ha fatto parzialmente un po' di robe con la squadra è fuori dal 23 luglio non fa un allenamento dal 23 luglio e martedì non ci sarà bisogna dargli tempo averlo una partita per giudicare il lavoro futuro è pura follia e qua sono assolutamente d'accordo io delle due li faccio tornare dopo il mondiale poi ovvio che Pogba dovrà lavorare un po' prima se vorrà andare al mondiale però per non rischiare delle ricadute è veramente molto molto cauto poi dice non è questione di gestire Milik le partite si giocano in 15 oggi ci sono dei dati che vengono post-Covid che sono a livello di intensità di corsa totalmente diversi rispetto a quelli durante il Covid anche chi gioca a 15 minuti diventa determinante poi gli chiedono ma il cerchio la squadra che si riunisce col Toro è una sua idea fa no è roba di gruppo io do solo indicazioni tattiche tecniche di comportamento che sono la cosa più importante poi gliela fanno la domanda allora post-Covid ha parlato dei dati e gli chiedono qua l'ho visto un po' in difficoltà sembrava la classica interrogazione a scuola quando dici una cosa poi non hai studiato allora la maestra o la professoressa dall'altra parte ti dice ah sì hai citato questa cosa approfondisci e non ne sai nulla l'hai soltanto citata perché è veramente andato nel pallone io non ho idea se quello che dice è giusto o sbagliato perché questi dati non ce li ho non li ho letti non li ho a disposizione non so nemmeno dove andare a riperire a meno che non si parla semplicemente di gol fatti gol subiti e quello però mi sembra un ragionamento abbastanza parziale non mi sembra proprio quello il modo giusto però va bene facciamo finta che ce ne siano degli altri e dice post-Covid dell'anno scorso e quest'anno da quello che mi risulta sono aumentate molto le corse ad alta intensità e io non ho idea di dove andarla a prendere questa cosa in Italia il calcio è cambiato molte squadre giocano uomo su uomo e quindi si alza si alza l'intensità con il Covid è stato un calcio diverso ora stiamo tornando alla normalità adesso si segna meno che cosa vuol dire allora Mallegri dice possono esserci due letture o abbiamo meno qualità in Italia o c'è più attenzione alla fase difensiva gli stadi pieni cambia le partite sono dati diversi rispetto a prima è normale che si torni nella normalità ripeto io qua non ho idea di cosa rispondere ho visto Mallegri in difficoltà mi è sembrata più una super cazzola rispetto a dei dati veri e propri però non ne ho la più pallida idea però io ricordo io mi ricordo i momenti in cui si diceva ma anche lo stesso Bergomi che Bergomi è stato un difensore di tutto rispetto e diceva lo stadio vuoto ti cala la concentrazione quindi è più facile subire gol cioè il fatto che tu non sia sotto pressione costante perché c'è il pubblico che magari ti fischia ti abbassa il livello di concentrazione e dicevano mi ricordo che ne parlavano a Sky di sta cosa il fatto che ci sia lo stadio vuoto provoca questa reazione incontrollata da parte di alcuni difensori che non avrebbero mai preso determinati gol poi è vero che noi vinciamo lo scudetto l'anno con Sarri con tanti gol subiti che è una controtendenza rispetto al classico della Serie A però io non penso che questo possa essere il punto di partenza per un'analisi approfondita cioè lo stadio vuoto è una cosa che va anti calcio perché le società non vivono perché il tifo non vive perché i calciatori non vivono quindi non c'è il calcio senza i tifosi non c'è il calcio perché sia noi che muoviamo la macchina del calcio noi che guardiamo paghiamo quelli che giocano perché senza lo sponsor senza l'abbonamento allo stadio o alla partita senza comprare la maglietta senza comprare il gadget il calcio muore senza di noi quindi noi siamo il calcio cioè questa è una cosa che deve essere ben chiara siamo noi che siamo il calcio poi gli altri lo fanno ma noi tifosi siamo il calcio quindi lo stadio vuoto di per sé è una follia non deve esistere quindi chissà uno sport che c'è da un centinaio di anni come reagisce senza i tifosi l'abbiamo visto magari c'è questa cosa e poi si diceva in Italia in quel momento lì si fischiavano anche tanti rigori quindi anche magari attenzione vedete errori di attenzione però si fischiavano tanti rigori anche più di quelli previsti ricorderete che poi c'è stato un momento in cui hanno rivisto il protocollo VAR per il discorso falli di mano e quindi ovviamente se dai meno rigori segni anche di meno mi sembra un discorso molto buttato lì quello di Allegri e ribadisco non ho dati a disposizione però ricordo tutti questi discorsi che si facevano durante il covid e l'attenzione e i rigori e il protocollo e lo stadio vuoto quindi non credo che sia solo un discorso di la corsa ad alta intensità l'uomo su uomo si segna meno gol questa è la mia lettura poi magari con dei dati a disposizione potrò approfondire il discorso Allegri dice per la prima volta non ho fatto previsioni non guardo la classifica bisogna andare avanti partita per partita concordo perché in questo momento cazzo guardi dopo dieci partiti ci sono squadre a fondo classifica con pochi punti quindi significa che le altre hanno fatto di più e adesso dice quella cosa che vi dicevo all'inizio che io io davvero cioè la decina volta la settimana scorsa ho detto non sono d'accordo non sono d'accordo ma è una mia opinione una sua opinione una presa di posizione però poi la ripete ancora questa stessa conferenza dice per noi la settimana cruciale è stata quella con la salarietà e la salarietà e Monza io se penso a questi due mesi di Juve non penso a quella settimana lì penso anche a quella settimana lì perché questa Juve dei problemi li ha palesati anche al di fuori da quella settimana poi certo quella settimana non è stata simpatica che è stata la stessa settimana dell'anno scorso se ricorderete a fine ottobre sotto Halloween tra Sassuolo e della Sverona però se penso alla stagione scorsa della Juventus penso solo a quella settimana lì no penso che ci siano stati tantissimi altri problemi quindi io non vorrei mai non vorrei mai che passasse il messaggio che andava tutto bene è arrivata quella settimana lì ci ha rovinati ha messo in discussione l'allenatore che però adesso ha vinto con il Toro quindi adesso è tutto sistemato perché quella settimana lì è passata no no vi scongiuro no 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 e no lo ridico no per cortesia no perché sarebbe veramente fare arachiri vi piantate il pugnale nel cuore da soli no no per favore non ragioniamo in questo modo qui che non è stata quella settimanale il problema è stata anche quella settimanale il problema ieri ho pubblicato qui sul canale un'analisi della fase offensiva della Juventus ce la mettersi rimane nei capelli perché alcune cose le sappiamo ve lo lascio nelle schede andatevelo a vedere non è quella settimana lì il problema è un problema per cortesia per cortesia davvero Leonardo il capitano della squadra Bonucci giocatore di personalità come tutti devo gestirlo molto importante sia quando gioca sia quando non gioca a 35 anni si hanno altre forze rispetto a 20 o a 30 ci sono delle situazioni ho la fortuna di avere 6 difensori li faccio girare in altri ruoli chiedo uno sforzo Leo è un uomo responsabile è un valore aggiunto per la squadra poi c'è un'altra frase che un'altra domanda che non ho ma proprio ma proprio no ma proprio non concordo minimamente ma neanche per sbaglio dice quanti gol ha subito il Napoli 7 non ho nemmeno controllato dico la verità ma non mi interessa nemmeno perché gli dice siamo abbastanza in linea con il Napoli per la fase difensiva la fase difensiva non è che se prendi lo stesso numero cioè intendiamoci la fase difensiva è anche quante occasioni creano quegli altri e poi magari il portiere te la para perché una squadra che deve salvarsi che prende 50 gol però noi poteva prendere 100 però magari il portiere è talmente forte che 50 li salva lui ma non è che la squadra fa una fase difensiva fatta bene cioè se noi mi viene in mente no a Genova con la Samp che facciamo 0-0 che c'è quella traversa di Sabiri dopo pochi istanti pochi minuti e Perin fa quella parata monumentale cioè lì non è che abbiamo fatto una buona fase difensiva perché non abbiamo preso gol abbiamo fatto una pessima fase difensiva perché ci ha tagliato con un pallone che sembrava il Grissino nel tono Reomare e Perin si è superato la fase difensiva e il gol cioè non sono legate strettamente certo hanno un collegamento per ovvie ragioni ma non è che se noi prendiamo lo stesso numero di gol del Napoli allora facciamo la stessa fase difensiva del Napoli cioè non esiste ma no questa cosa proprio è follia e dice siamo abbastanza in linea con il Napoli per la fase difensiva ma ci mancano dei punti in quella settimana tra Salernitano e Monza non lo so ho già spiegato la mia posizione spero di aver capito davvero spero di aver capito male io perché se diciamo che questa Juve è stata perfetta però quella settimana tra Salernitano e Monza ci ha impedito di essere a giocarci lo scudetto mi sembra avere abbastanza le fette di prosciutto sugli occhi poi io spero sempre che Allegri dica delle robe in conferenza stampa che poi non spiegato ogni altro però in questo momento qui ragazzi questo momento qui la comunicazione in un momento così delicato a livello psicologico non può venire meno nemmeno di fronte alle telecamere e ai microfoni non può è fondamentale perché se no sta squadra che sente l'allenatore parlare così il messaggio che passa da parte dell'allenatore che quindi è quello che deve far passare determinati messaggi è siamo comunque perfetti basta non replicare quella settimana lì ma non è così io non voglio che i calciatori si siedano sugli allori io voglio che i calciatori scotti il culo voglio che scotti il sedere non che è vabbè tutto a posto però quella settimana lì poteva andare meglio no perché se no non si migliora mai non ci si arriverà mai a giocarsi qualcosa di importante ragionando in questo modo questa cosa è fondamentale questa cosa è veramente fondamentale lui dice Emiletti sta meglio ha giocato tante partite anche senza aver fatto la preparazione sta meglio ha giocato partite importanti di livello sta bene ha detto tre volte e poi dice vabbè però stanno crescendo anche i fagioli sulle che sono considerati giocatori da prima squadra non sono più giovani la domanda sul perché Emiletti non gioca più finisce con anche fagioli sulle stanno bene sono giocatori da prima squadra Emiletti sta bene sta meglio sta meglio io adoro Massimiliano Allegri per questo modo di riuscire a cambiare in corsa le domande cioè lui veramente risponde a quel diavolo che gli pare a lui se ne frega cioè se tu gli chiedi chi ora è lui ti dice una pizza margherita perché magari ha voglia di pizza margherita e quindi il discorso si va a sviluppare sull'andiamo a mangiare una pizza e questa roba è incredibile cioè lui su questa cosa è un fenomeno su tante altre cose che abbiamo analizzato anche in questa stessa in questo stesso video post conferenza invece vedo non un allenatore vedo un uomo un uomo che è invecchiato tanto forse male per quello che è la direzione che ha preso in questo momento il calcio la quotidianità i social network la vita quindi che sta facendo un po' fatica a star dietro al nuovo modo di comunicare è fisiologico è normalissimo io stesso per dire ho 30 anni ma quando apro tiktok tante volte dico non ho capito è un esempio banale un esempio del cazzo però ti dà proprio la dimensione di come a volte ti ritrovi in situazioni in cui non ti senti più a tuo agio anche se io sono sempre stato su internet però adesso sono le altre generazioni che hanno un modo diverso di comunicare dal mio è normale però in tante cose quel mago di comunicazione quel mago di tenere calme le acque di massimiliano allegri che c'è stato in massimiliano allegri del primo ciclo non sempre ovviamente perché la giornata per assoluti è sempre sbagliato la giornata per assoluti è sempre sbagliato è spesso sbagliato però vedo un po' di mancanza un po' di carenza di qualcosa in più da parte di massimiliano allegri fatemi sapere un po' come avete letto questa conferenza stampa io vi dico che al termine di questa conferenza stampa il dubbio di non vincere domani sera con l'Empoli ce l'ho perché ho paura che determinati messaggi possano arrivare alla squadra ma poi ne parleremo meglio nel video di domani